Tiziano Enrichiello, ilfoggia.com e Mitigo Channel. Buonasera Billong. La sconfitta di Venezia ha un po' complicato i piani salvezza, quello che era il cammino che la squadra doveva fare. Siete coscienti della importanza della gara di lunedì sera con il Livorno, che tra l'altro è il secondo scontro diretto in calendario, e poi come state preparando questa gara? Buonasera a tutti. Abbiamo giocato bene contro Venezia, abbiamo fatto una buona gara, mancano solo il gol, in posizione un po' pericolosa per la salvezza, quindi dobbiamo lavorare di più. Penso che in questo modo di giocare, giochiamo bene, dobbiamo solo fare gol per vincere, perché penso che la difenza, mezz'ala e gli attaccanti, tutti lavoriamo tutti insieme e lavoriamo bene, quindi a questo punto sono molto contento. Contro Venezia era una gara difficile, abbiamo fatto le buone cose a fare, su un campo difficile, quindi contro Livorno dobbiamo solo fare gol e vincere la partita per forza. Buon pomeriggio, Gianpaolo Di Mardi, Foggia Sport 24, quindi secondo te a Venezia vi è mancato soltanto il gol, cioè la prestazione, tu la repudi comunque una prestazione positiva, però perché sono diverse prestazioni positive, giocate bene, però poi magari i punti non arrivano, tu ti sei dato una spiegazione, perché è soltanto una questione di episodi, di cose che capitano, che pensi tu? Io penso che quando guardiamo le altre squadre, per me abbiamo una migliore squadra, manca solo questo punto di fare gol, solo questo manca, poi abbiamo tutto, quindi per la salvezza penso che la facciamo, perché abbiamo una squadra troppo forte per andare in Serie C. Volevo chiederti, tu stai diventando un perno assoluto, più importante tra i difensori, cerco di farti là, giocando tra l'altro in un ruolo di centrale, il quale sembra che tu ti stia abituando sempre di più a giocare in questo ruolo, come se lo facessi da molto, abbiamo visto, adesso stiamo vedendo secondo te il miglior billongo, c'è ancora da parte tua un margine di miglioramento, puoi crescere ancora rispetto a quello che abbiamo visto e stiamo vedendo adesso? Io penso che è un lavoro di tutta la squadra, se uno gioca bene vuol dire che la squadra gioca bene, quindi non solo io che giochi bene, vuol dire che tutti giochiamo bene in difenza. Per me, a Venezia, Ragneri, io e Martineri abbiamo fatto una buonissima gara e quindi possiamo fare di più, rimanono cinque partite e penso che noi difensori possiamo fare le buone cose per non prendere gol. Ecco l'ultima da parte mia, tu sei comunque un giocatore forte fisicamente che nella tua area di testa le prendi praticamente tutte, però da un giocatore del genere magari uno si aspetterebbe qualche gol di più, non è il tuo mestiere, tu fai il difensore. C'è un motivo per cui Billongo anche in carriera mi pare di aver visto non ha segnato tantissimo, cioè non sei troppo convinto, perché magari in area avversaria non riesce a imporre questa tua forza che è importante, cioè ti sei fatto una domanda, vorresti segnare di più immagino anche da questo punto di vista, insomma grazie. Tutti i giocatori vogliono segnare, purtroppo io non segno tanto, quando ho un'occasione di aiutare la squadra a fare gol, forse voglio farlo, ma è difficile. Ciao Emanuele Rosa per la Gazzetta dello Sport, riprendo una tua dichiarazione, avete fatto una partita importante, vi siete come difensori, come si fa a perdere una partita del genere? E quanta rabbia c'è dopo quella sconfitta, anche perché sia il portiere non ha subito un tiro in porta, ma anche voi non avete concesso granché agli avversari, se no qualche tiro da lì. Siamo molto tristi perché quando hai tutto il rispetto di Venezia, abbiamo la palla sempre, abbiamo fatto le buone cose, le cose giuste e poi purtroppo non abbiamo fatto gol. Comunque alla testa anche dell'attaccante non è facile, ogni gara facciamo magari uno o due gol, non di più, se tu guardi le altre squadre, non lo so, Cittadina ha quattro gol, Lecce quattro gol, le altre squadre tre gol e noi solo uno o due, dobbiamo solo lavorare insieme per si salvare. Senti, da quando sei arrivato non hai saltato un minuto di partita, se il calciatore, almeno del Foggia, quando sei qui, l'unico che non ha avuto sostituzioni, ti sei integrato bene a livello anche di movimenti, sia con il vecchio allenatore che con il nuovo, che cosa dovete fare di più, oltre all'unità, oltre al fatto? C'è una questione anche di testa dal punto di vista? Noi siamo molto concentrati come all'allenamento, come sul campo, ogni partita, io penso che in tutte le squadre possiamo fare sempre di più e quindi dobbiamo fare di più perché noi abbiamo vinto contro Venezia e per me non è normale e quindi contro il Vorno penso e sono sicuro che la facciamo. Un'ultima domanda te la faccio proprio, le prossime quattro partite il Foggia giocherà tre in casa, no? Tre in casa? Sì, tre in casa nel giocato. Quanto sarà importante l'apporto del pubblico? Quanto sarà importante in queste partite raccimolare i punti poi salvezza? Perché non avrete più nulla a disposizione. Io sono da poco tempo qua, io ho visto che il calcio in questa città è tutto. Per me, anche per me, io voglio aiutare questa città, questa squadra a vincere tutte le partite. Quindi, da adesso, le ultime cinque partite, per me penso che possiamo rivincere e dobbiamo vincere per la salvezza. Ciao, buonasera, Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Ti chiedo come è cominciata questa settimana, qual è lo stato d'animo, l'umore nello spogliatoio, cosa vi ha detto il mister dopo i due giorni di riposo che ci sono stati dopo la partita, come avete ripreso a lavorare verso questa gara importante di lunedì? Sì, abbiamo lavorato da ieri, abbiamo lavorato bene, tutti siamo un po' tristi del risultato contro Venezia, è normale. L'allenatore è contento della prestazione, non è contento del risultato, solo della prestazione, sì. Ma per lui abbiamo fatto le buone cose, le giuste cose, quindi dobbiamo solo pedare davanti a tutti. Poi volevo chiederti che pensi di Livorno come squadra? L'andata non c'eri perché non eri ancora arrivato a Foggia, però forse col Benevento l'hai incrociato almeno una volta, quindi che idea ti sei fatto di questa squadra? Quando ho giocato con Benevento contro Livorno, se mi ricordo bene, loro hanno un buon giocatore davanti, era una gara difficile per noi anche, quindi io penso che sarà una gara difficile lunedì, ma l'ho detto prima, abbiamo una buona squadra e penso che possiamo vincere questa partita normalissima. Tu dicevi prima, sono certo che riusciremo a salvarci perché abbiamo una squadra forte, più forte delle altre squadre che sono in lotta per la salvezza, quindi credo che ce la faremo. Siccome la classifica però non è migliorata nelle ultime settimane, cosa si può fare secondo te? perché affinché questa forza venga dimostrata effettivamente sul campo? Penso che voi guardate le partite, giochiamo molto bene, mancano solo il gol, quando abbiamo un'occasione dobbiamo fare il gol subito, contro il Venezia avevamo magari tre occasioni nette e poi una rigore così e poi corriamo dentro l'usultato tutta la gara e purtroppo è il calcio così. E poi chiudo chiedendoti, sei da pochi mesi qui però si è creato subito un bel feeling con i tifosi, almeno io vedo che anche nella precedente partita in casa con lo Spezia, quando fai un intervento ci sono tanti applausi, non accade spesso per un difensore, ci sono quasi applausi o ovazioni come se fosse la giocata di un trequartista, di un attaccante, tu che ne pensi di questo, di questa fiducia che la gente ha nei tuoi confronti? Mi fa piacere tantissimo, io ancora lo dico, l'ho detto ancora prima, mi sento molto bene qua, dal primo giorno i miei compagni della squadra, l'allenatore, il primo allenatore come l'allenatore adesso, mi ha dato fiducia subito e quindi forse che si vede sul campo, quando tu sei bene alla testa tu giochi bene. Michele Gramazzo, Foggia Città Aperta, l'hai detto prima anche tu, la forza della squadra, se vedi le altre squadre le reputi il Foggia più forte, lo dicono anche gli avversari, lo dice anche il campo perché in realtà di punti rispetto alle dirette concorrenti se ne sono stati fatti di più, però si dice anche che bisogna essere abituati a lottare per la salvezza, Il fatto che vi ritroviate invischiati potrebbe essere un lato negativo sotto l'aspetto mentale? Io l'ho detto ancora prima, dobbiamo solo pedale insieme per rimanere in Serie B, per me è impossibile che andiamo in Serie C perché quando ho visto le altre squadre, ancora l'ho detto, è che tutti, visto che Foggia è una squadra forte, non lo so se voi avete visto la squadra contro Venezia, l'avete vista? Quindi abbiamo tutta la gara, abbiamo la palla, giochiamo solo noi, e quindi solo questo, diciamo, questo punto di gol mi fa... non c'è ancora le... come si dice, le parole per mi spremi, ma mi rendo triste un po' perché abbiamo una bella squadra e quindi questo punto di gol non viene e quindi perdiamo le partite, facciamo pareggio, abbiamo fatto, non lo so, 5-6 pareggio di file, non lo so. Il mister in due occasioni ha parlato proprio di te personalmente, dicendo che è stata una felice coincidenza trovarti a gennaio, lui è arrivato dopo di te perché nel frattempo era stato esonerato, dicendo che in realtà sei un giocatore che va benissimo per il suo modo di giocare. Ti volevo chiedere qualche particolare, lo abbiamo visto, sei centrale, qualche particolare che ti chiede di fare, quali particolari ti dice di applicare durante le gare? Sì, è la verità che mi sono molto fiducia e per me quando sono sul campo dobbiamo giocare, tutte le parole vengono prima da me, se tu vedi le partite, se tu avete visto le partite, devo prendere la palla, puntare e devo cominciare il gioco e poi è cosa vero, uscissimo, tranquillamente. L'ultima domanda per me, dicevo prima la mentalità, alcuni dicono che forse manca un po' di grinta, di mangiare l'erba del campo, per te invece la qualità e la tecnica comunque avranno meglio lo stesso? No, io penso che abbiamo questa cattiveria dall'inizio, dall'inizio di gennaio, non penso che è una cosa di cattiveria. Per me, come allenamento, come alla partita, ogni partita giochiamo per vincere, purtroppo non vinciamo, il calcio è così qualche volta, ma non è facile vincere tutte le partite, bisogna lavorare insieme, bisogna avere la gente con noi e poi le cose vengono subito. Buonasera, Francesca Valentino, Telefoggia. Hai detto che è impossibile con questa squadra andare in Serie C, ma quanto ci credete davvero alla salvezza? Tutti, tutti crediamo, non lo dico per dire, io lo credo che dobbiamo rimanere in Serie B. Ai tanti tifosi e alla gente che teme di perdere la categoria, B-Long, cosa si sente di dire? Io voglio dire a loro che dobbiamo essere uniti, perché non è una situazione facile anche per i tifosi, ma anche per noi giocatori, perché noi giochiamo, bisogna essere insieme e essere uniti con questa difficile situazione. Grazie. Grazie.